Oggi alle 18 terrò una concelebrazione ad mentem dominici. Bene, peccato che se e quando la stessa dovesse produrre i suoi effetti, il destinatario sarà morto. Facciamo sì che resti in vita. Poi ce n'è un'altra successiva, ascoltiamola. Con la certezza di sapere che il destinatario è in vita, sappia che la concelebrazione ha avuto termine ed è stato ricordato nelle invocazioni. Monsignore è rientrato in casa secondo le indicazioni del governo. Il destinatario è e resta la protezione civile, un distributore di morte. Per carità, si manifesti quando potrà. Da brividi. Prego. Questa espressione è una cosa, adesso io non ne so il significato, non ne conosco il significato, ma ammesso che sia una battuta è di una gravità incredibile. Cioè pensare soltanto che la protezione civile possa essere un distributore di morte che raccoglie il meglio del nostro paese, centinaia di volontari che ogni volta di fronte a una calamità, a un terremoto, rischiano la vita e l'hanno rischiata più volte, uno possa esprimersi così? Cioè la protezione civile, ma come si fa? E comunque non sappiamo cosa vogliono dire perché il linguaggio è loro. Scusa Sandra, noi non possiamo, io ognuno si assume poi no. A me fanno venire i brividi. Certo, ma noi...